Due giorni di raccolta firme a Roseto degli Abruzzi in difesa della riserva naturale del Borsacchio. Associazioni ambientaliste e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Libertà per contrastare la cancellazione di fine anno decisa attraverso un emendamento alla legge di bilancio regionale. Nessuna logica condivisibile, dicono le associazioni, può giustificare il modo in cui la regione tratta una delle più belle riserve naturali litoranee. Un inizio pessimo di questo anno perché tagliare un'area protetta fra il 2023 e il 2024 con queste modalità è francamente assurdo. Peraltro l'Italia dovrebbe aumentare le superfici protette e non certamente ridurle. Per questo noi siamo in piazza, abbiamo lanciato questa petizione perché noi chiediamo che vengano immediatamente ristabiliti i confini originari e si dia poi seguito alla riserva come noi chiediamo da sempre. Va fatto il piano di assetto naturalistico che la regione non approva da quasi 20 anni e va fatto il comitato di gestione perché la riserva, come tutte le altre riserve, può essere un'occasione non soltanto di conservazione del territorio ma anche di sviluppo. Se passa il concetto che una riserva regionale può essere tagliata del 98% dalla notte alla mattina con un emendamento presentato su una legge che non ha niente a che fare con la riserva stessa, in questo modo tutte le altre riserve regionali, lo stesso parco regionale, come del resto aveva già provato a fare la giunta Marsilio, è a rischio. Noi faremo tutti gli atti legali necessari però la politica ha ancora un suo spazio e noi a questo spazio e alla politica ci rivolgiamo proprio perché si cerchi di mettere riparo a questa scelta sceglierata e si torni assolutamente indietro. Tuttavia per il WWF Abruzzo e le altre associazioni c'è ancora spazio per porre rimedio a questa situazione. La reazione che si sta avendo in questi giorni da parte dei cittadini, non dico le forze politiche o le associazioni ma proprio tanti cittadini che stanno chiedendo perché si è venuta a tagliare una riserva come questa che ricordiamo è l'unica riserva regionale costiera della provincia di Teramo che va a tutelare una fascia collinare assolutamente di pregio e che si è mantenuta fino adesso e poi è un po' nel cuore di tutti noi terramani, insomma di tutti noi della provincia di Teramo, la riserva del Bossacchio, la reazione che c'è stata dovrebbe spingere qualcuno a riflettere e a tornare sui passi.